Sotto il segno della vittoria, questo è il titolo del film a sfondo sociale che sarà proiettato il prossimo 19 luglio nell'ambito di un'iniziativa promossa dalla Fondazione Neuromed e il ricavato contribuirà a finanziare una Smile Room per i bambini decenti presso l'IRCS Neuromed. Un film straordinario che racconta molte verità, un'emozione dopo l'altra, tocca i cuori e ti porta a sognare. Un film sociale dai contenuti sottili che si intreccia con la realtà di tutti i giorni. Complimenti agli attori e al forte messaggio che trasmette. Dovrebbero vederlo tutti i ragazzi. Sono alcuni dei post apparsi nella pagina social del film sotto il segno della vittoria. Il regista campano, modestino di Nenna, già autore di diverse pellicole a sfondo sociale, nel suo ultimo lavoro porta in scena attori diversamente abili a fianco ad attori professionisti per raccontare la storia di Romolo Abis, un ragazzo disabile che dopo una vita disoccupata prusi, violenza e oppressione conquista una vita migliore, una vera e propria rinascita attraverso lo sport. È una favola moderna con un messaggio sociale forte. Per questo ha riscosso l'interesse anche della fondazione Neuromed, che ha organizzato un evento ad hoc dal titolo Cinema sotto le stelle. Il 19 luglio prossimo, a partire dalle ore 21, l'area antistante dell'ospedale Neuromed si trasformerà in un cinema all'aperto. Alla presenza di regista ed interpreti, la proiezione del film, insieme all'intento di far giungere agli spettatori il positivo messaggio del superamento delle barriere fisiche e mentali, di ogni pregiudizio, grazie all'amicizia e alla voglia di non arrendersi, l'iniziativa al Neuromed si prefigge un altro importante obiettivo. Il ricavato della manifestazione sarà infatti utilizzato per costruire la Smile Room, una stanza a misura di bambino presso il centro per lo studio e la cura dell'epilessia IRCS Neuromed. Un motivo in più, dunque, per andare a vedere il film tra una settimana a Pozzilli.